Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignone. In A12 tra Massa e Versilia code a tratti in direzione sud. In A1 si segnala la chiusura del tratto Rioveggio-Aglio in entrambe le direzioni fino alle 19 di oggi. Tra Firenze Nord il BV A1 variante coda per traffico intenso in direzione Bologna. Tra il BV A1 variante Baccheraia e Calenzano coda per lavori in direzione Roma. In Fipili code a tratti tra Empoli e Montelupo in entrambe le direzioni per lavori in corso. In uscita la strassigna provenendo da Firenze coda per viabilità esterna congestionata. Ricordiamo che sulla Fipili l'entrata Empoli-Est in direzione Firenze resterà chiusa per lavori nella tratta Empoli-Est-Montelupo-Fiorentino fino al 22 novembre. Lavori di asfaltatura in via di San Domenico a Firenze con implementazione di senso unico alternato con movieri. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!